Allora ragazzi non ci crederete, questa maglia qui l'ho comprata a 3 euro oggi pomeriggio che ero in un supermercato qui ad Anzio, un incerno commerciale che avevo da prendere un affarino per la bicicletta e vado nel negozio lì della Legea perché è giustamente roba di sport, guardavo un attimino questa cera che mi serviva e che non mi serviva a un certo punto vedo arancione che io come un toro che vede rosso, può vedere, poi taglia S che è la mia anche se fosse costata 50 euro che è solo perché, cioè non la potevo non prendere, 3 euro, ne volevo prendere una perché c'era questa e basta insomma me l'ero anche portata adesso una maglia orange, però da bicicletta per andare a giro, così già son brutto però almeno la maglia è a modo, dai chi è stato?